Senatrice Granaiola, questo disegno di legge che lei presenterà in Senato prevede una proroga di 30 anni per le concessioni balneari. Qual è l'importanza proprio di questo provvedimento? In questo disegno di legge abbiamo previsto praticamente quello che viene definito un doppio binario, cioè un doppio percorso, un percorso che riguarda le attuali concessioni per le quali prevediamo un periodo transitorio individuato in 30 anni che riteniamo essere assolutamente necessario sia per consentire l'ammortamento degli investimenti effettuati in immobili, in infrastrutture, in attrezzature, sia necessario anche per l'Agenzia del Demanio per poter ridefinire le linee di costa e soprattutto anche per i comuni per definire in maniera anche uniforme su tutto il territorio nazionale i piani di utilizzo delle aree nili, i cosiddetti PUA. Se l'esito della sentenza dovesse essere quello che purtroppo ci aspettiamo c'è un esito negativo, vorrei che fosse chiaro quello che sta per succedere, tutti questi 30.000 imprese si vedranno cancellata l'autorizzazione sulla base della quale operano, perché le concessioni sarebbero scadute a dicembre del 2015. E sarebbe una situazione drammatica, alla soglia di una nuova stagione che invece si annuncia come una stagione molto importante. Quindi qui c'è una colpa gravissima, e va detto, dei governi, perché sono anni che noi andiamo avanti con proroghe senza che si faccia una legge interpretativa seria. Non l'hanno fatto i governi passati, l'hanno fatto i governi di altri paesi, la Spagna, Portogallo, il problema alla fine l'hanno risolto, perché poi in Europa sono un po' rigidi, ma non sono del tutto illogici. E di fronte a uno Stato che mette in campo una proposta ragionevole si può andare a trattare. Questa è la nostra lotta, perché l'unico modo per far vivere queste aziende è far ripartire gli investimenti e aumentare l'occupazione. Noi riteniamo che l'Italia in Europa debba far sentire autorevolmente la sua voce e salvare queste aziende e questo comparto. In Spagna hanno approvato una proroga di 45 anni. Noi riteniamo che questo periodo inoltre serva anche per assodare in sede comunitaria la non inerenza della direttiva servizi con gli stabilimenti balneari e con il comparto turistico costiero italiano. Noi non abbiamo nulla a che vedere con la Bolkestein.